Musica Bentornati a Talk Sicilia, continuiamo la nostra carrellata a scoprire personaggi delle prossime elezioni regionali. Un esercito di candidati si muove verso Palazzo dei Normanni con l'obiettivo di governare bene questa terra. Oggi però, prima di presentare il nostro ospite, vorrei, è doveroso fare un passo indietro nel passato, fare un passo indietro al 12 novembre del 2003, capirete presto perché. Cosa succede quel giorno? Sono le 8.45 italiane a Nassiria, nel cuore dell'Iraq, c'è una palazzina interamente occupata dai carabinieri italiani, sono impegnati nella missione antica a Babilonia. Due furgoni, due macchine guidate da terroristi del movimento dei combattenti islamici, fa irruzione, sfonda le linee di difesa, scavalca le linee ferrate, le linee di trincea di difesa di quella postazione militare, e fa esplodere 400 kg di tritolo, è la strage di Nassiria. 50 morti, 25 vittime italiane, tra quei caduti c'è anche il vicebrigadiere in Travaglia, che viene da Monreale, non è l'unica vittima siciliana. Perché oggi parliamo di questa vicenda? Perché a quasi vent'anni di distanza corre all'Assemblea regionale un giovane ragazzo che già alle spalle è una grande esperienza politica, ma che porta con sé quel cognome che ricorda una strage terribile, ma anche un cognome che ricorda anche quanto possa essere coraggioso il popolo italiano e quello siciliano. Benvenuto a Marco in Travaglia, ci perdoni se abbiamo fatto questa entrata a gamba testa nella sua vita personale, nella sua storia personale, nella storia della sua famiglia, ma ci sembrava doveroso tracciare prima il profilo dell'uomo, della famiglia, da dove viene, perché soltanto cercando di capire da dove vengono i candidati possiamo scoprire dove potranno arrivare. È giusto. Buonasera, buonasera a tutti e buonasera a lei. Non mi ha assolutamente dato fastidio, anzi per me è un piacere parlare del sacrificio di mio padre. Del resto non è una storia che appartiene soltanto alla mia famiglia, ma appartiene a tutto il paese. Quanto le pesa questa vicenda? Lei era un ragazzino, aveva 15-16 anni, andava a liceo. Cosa sentite in quei momenti? Un senso di smarrimento, di dolore, di frustrazione? Parlando con suo padre, c'era il sentimento di questo rischio che incombeva sulla vita di quei militari? O è stato un episodio che comunque non poteva essere previsto o che suo padre comunque non lasciava trasparire il rischio che stava correndo impegnato in quella missione? Guardi, tutte le famiglie dei carabinieri o comunque delle forze dell'ordine sanno quanto sia rischioso il lavoro del proprio caro. E' che ogni giorno c'è appunto il rischio di non tornare a casa. Mio padre era un militare esperto, aveva già fatto altre missioni all'estero. Quella era, ed è stata una missione del tutto diversa rispetto alle precedenti. C'era molta potenzione, il contesto era ancora bellico e quindi anche l'atteggiamento di mio padre che noi riusciamo a percepire al telefono era diverso. Un atteggiamento sicuramente di chi è preoccupato per la propria vita e non solo. Ed è quello che poi abbiamo scoperto chiaramente subito dopo la strage, perché loro avevano avuto tantissimi warning da parte dei servizi segreti americani e inglesi che avvisavano appunto di un imminente attentato nei confronti dei militari italiani. Questo chiaramente non gli consentiva di vivere serenamente, ma nonostante questo sono rimasti lì a Nassiria sino all'ultimo giorno della loro vita a servire il paese. Lei però non si è mai perso d'animo, questo le va riconosciuto perché io non vorrei fare l'intervista in ginocchio, però ho studiato la sua storia e il suo profilo personale. Lei a 15 anni già, nonostante quel lutto sulle spalle, ha iniziato un impegno politico. Sì, nonostante lo smarrimento iniziale che era anche comprensibile, che è quello di un figlio, di un ragazzo che a 15 anni rimane senza un papà, con una sorella più piccola da assistere e da crescere e una mamma che appunto comprensibilmente era disperata. Questo però in un primo momento ci ha appunto destabilizzati, con il tempo invece ci ha dato la forza di andare avanti, consapevoli del fatto che mio padre ha sacrificato davvero la vita per l'Italia, oltre che per quella popolazione che davvero aveva bisogno del sostegno dei militari italiani, che a differenza di altre forze militari non erano forze di occupazione. Noi abbiamo ricevuto poi negli anni tantissime testimonianze di affetto da parte dei cittadini di Nassiria e non credo potesse esserci davvero soddisfazione più grande. Un tributo alla memoria com'è? Un tributo alla memoria da parte di un popolo che ha toccato con mano quanto fosse davvero concreto l'impegno dei nostri militari e quindi anche di mio padre. E poi abbiamo davvero vissuto con grande orgoglio, che è stato l'orgoglio di tutto il popolo italiano. Quella è ormai una pagina della storia del nostro paese, come ho detto all'inizio, che ha risvegliato in tutti gli italiani i sentimenti che erano ormai dimenticati. Ci si è ritrovati davvero tutti accomunati di un senso di appartenenza alla patria. Io ogni tanto riguardo alcune immagini dei funerali di Stato, della Camera Ardente al Vittoriano e c'erano davvero fiumi e fiumi di persone che erano lì per rendere omaggio ai nostri caduti. I carabinieri sempre in prima linea anche nelle missioni di guerra, non soltanto nella lotta alle comunità organizzata. I carabinieri sono una delle forze armate tra le più stimate nel mondo, che hanno questa capacità di radicamento sul territorio. Non c'è un paese in cui non ci sia una stazione dei carabinieri, ma hanno anche la capacità di condurre operazioni extraterritoriali. Con un altissimo profilo di intelligence. Con un altissimo profilo di intelligence e un'altissima professionalità, che come ho detto è riconosciuta da tutte le altre forze armate internazionali. E quindi siamo davvero andati avanti con grandissimo orgoglio per questo impegno di mio padre, che ha sempre messo al primo posto la divisa e ci ha insegnato il rispetto delle istituzioni e ci ha insegnato davvero ad amare il nostro paese, ad amare l'Italia. Questo credo che sia il concetto cardine, però un po' la cifra del suo impegno politico, il rispetto delle istituzioni. Lei dove inizia a fare carriera politica? Io avrei potuto benissimo decidere di servire il paese indossando una divisa, seguendo le orme di mio padre. Ho deciso di non farlo perché avrei dovuto lasciare comunque qui mia sorella da sola e non mi sono sentito di farlo. Ma credo che il paese, la nazione, la si possa servire anche in altri modi, anche facendo politica. E quindi ho iniziato immediatamente all'età di 16 anni a questo mio impegno sul territorio che poi gradualmente mi ha portato... Lei è originario di Monreale. Sì, di Monreale. Impegno che poi gradualmente, dicevo, mi ha portato all'interno delle istituzioni. La politica con la P maiuscola, quella fatta davvero bene, con passione ed intesa come servizio, è il miglior modo davvero per portare avanti gli insegnamenti di mio padre. Ma lei ha stabilito anche un piccolo record, se non sbaglio lei è stato pure assessore comunale a Monreale a 20 anni. A 21 anni. Ma Monreale è un territorio dove c'erano politici di... Morale, sì. Come si fa a... Monreale è una città che ha avuto la fortuna di esprimere per tanti anni una rappresentanza parlamentare folta e quindi non è stato facile crearsi lo spazio. Però con la caparbietà e con il lavoro fatto giorno dopo giorno sul territorio siamo riusciti davvero a crescere e a far toccare con mano ai cittadini. Utilizzo sempre il plurale, il siamo riusciti. Questo dà il senso di un gruppo che la segue o è un vezzo così linguistico che... No, io credo che la persona da sola non possa arrivare ad nessuna parte. E questo vale anche e soprattutto per la politica. Quindi c'è un gruppo che la sostiene. Deve esserci sempre un gruppo e una squadra che non solo ti sostiene ma che cresce assieme a te. Questo è quello che è capitato a me in questi anni, è quello che mi ha dato la forza anche elettorale di andare avanti ed è un gruppo che esiste ancora oggi che negli anni semmai si è allargato. Quindi è questa la sua base, come dire, elettorale per capire ci sono ragazzi che hanno la sua età, che hanno la sua esperienza... La maggior parte sono tutti giovanissimi amministratori locali... Questa è quasi una perla rara, io non vorrei fare controinformazione, contropolitica, però quasi tutte le candidature sono candidature sessantenni, settantenni. Lei è giovanissima, ha 26 anni, 27 anni. No, ne ho 35. 35, ho sbagliato, però ancora siamo agli albori di una carriera politica. E quindi le si candida all'Assemblea regionale per fare che cosa? Mi cambio all'Assemblea regionale siciliana per continuare a fare tutto quello che ho fatto soprattutto negli ultimi 5 anni. Poi però le faccio io le domande, perché ci sono alcuni aspetti del suo curriculum che vorrei approfondire con lei. Mi racconti quello che vuole fare una volta elettorale del deputato? Le dico subito, come abbiamo già detto, la mia città, che è il territorio dal quale io parto e che ancora oggi amministro nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, è una città che ha dato tanto alla politica, ha espresso tanti parlamentari per 20 anni consecutivi. Però i cittadini non hanno mai visto nulla di concreto, una presenza fattiva. Negli ultimi 5 anni lei sa bene che ho avuto l'opportunità, il privilegio di ricoprire... C'è in termine letterale l'onere e l'onore. Esattamente. Di ricoprire l'incarico, il ruolo, di restire il ruolo di segretario particolare del Presidente della Regione. Un ruolo davvero prestigiosissimo. Anche fibrante però. Assolutamente. Complesso per certi aspetti. Che mi ha dato la possibilità di crescere tanto, non soltanto personalmente, professionalmente, ma anche politicamente. Nel senso che mi ha permesso di dare tutte quelle risposte al territorio che mai e poi mai avrei immaginato di poter dare da semplice amministratore locale e che in passato quella importante rappresentanza parlamentare non è riuscita a dare. Lei pensi che nella mia città negli ultimi 20 anni non si è realizzata nessuna opera infrastrutturale né tantomeno se n'è riqualificata un'esistente? Cosa serve a Monreale per migliorare? È una cittadina di origine normana con un paesaggio meraviglioso, con dei beni monumentali fantastici che il mondo ci invidia? Però non basta. Non basta. Cosa serve? Non basta perché una città come Monreale e come tante altre della nostra provincia, della nostra regione non possono campare ridendita rispetto a ciò che hanno già. Bisogna valorizzare quello che abbiamo e per valorizzare quello che abbiamo dobbiamo creare nuove opere infrastrutturali. È impensabile che una città turistica come Monreale per esempio non ci sia un parcheggio adeguato, non ci siano i mezzi per arrivare frequentemente, che le condizioni delle strade siano come tutte quelle che spesso riguardano la regione in condizioni pietose, non ci sono strutture sportive. Tutto questo è frutto di una pessima politica che si è succeduta negli anni. Quindi secondo lei è una politica poco attenta. Ma c'è anche una responsabilità della rappresentanza parlamentare eletta, Monreale? Ma assolutamente, guardi che i comuni hanno oggi, ma così come anche in passato, hanno avuto difficoltà ad amministrare poche risorse, spesso risorse finanziarie, ma anche pochissime risorse umane. Gli uffici ormai sono davvero vuoti e non vi è la possibilità di fare delle assunzioni. Il ruolo della regione è fondamentale, in un momento in cui tra l'altro non vi è più neppure un ente cuscinetto che erano le province, che la politica del Partito Democratico e dell'ex presidente della regione ha decapitato. Quindi oggi l'interlocutore per i comuni è la regione siciliana. Decapitato le province lasciando aperte i conti che continuano a venire risorse. Esattamente, perché di fatto l'ente rimane in piedi senza una guida politica, con le competenze che sono la viabilità provinciale che in Sicilia è allo stremo ed è pari ad un 70% della viabilità generale, il trasporto dei disabili, la gestione delle scuole superiori, competenze che sono rimaste in capo a questi enti fantasma. E spesso la regione siciliana in questi anni ha deciso di sostituirsi perché è chiaro che non si potevano lasciare abbandonati tanti settori. Però per tornare a quello che la politica non ha fatto, e le parlo della mia città perché quella che conosco bene è quella che amministro, per tanti anni non hanno fatto nulla. Pensi che soltanto la città di Morreale in questi ultimi anni ha ottenuto attraverso la regione siciliana 60 milioni di euro di finanziamenti, tutti decretati, tutti tradotti in cantieri aperti per realizzare nuove opere infrastrutturali, nuove strade, parcheggi, strutture sportive o restauro di tante chiese. E quello che ho fatto per Morreale nella qualità di segretario particolare del Presidente della regione l'ho fatto per tantissimi comuni siciliani. Mi sono... Quindi cerchiamo di far capire a chi ci ascolta. Lei non fa una proposta politica campanilistica. No, assolutamente. Lei sta spiegando quale deve essere il medico per buon governare la Sicilia. Esattamente, esattamente. Il metodo deve essere proprio quello. Io, come avevo già detto, ho avuto questo privilegio di fare il segretario particolare del Presidente. L'ho fatto non guardando mai ai colori politici dei sindaci con i quali parlavo, perché il Presidente della regione, il giorno dopo le elezioni, mi ha detto che dovevamo dimenticare la campagna elettorale, le tessere di partito. E questo abbiamo fatto e questo ho fatto. E non c'è un Comune della Sicilia che non abbia avvertito concretamente la vicinanza del governo musumeci. Chiaramente mi sono molto dedicato essendo amministratore locale in questa provincia, della provincia di Palermo e penso di averlo fatto bene, riuscendo davvero in maniera fattiva a garantire una presenza in ogni Comune. Ultimamente c'è qualcuno candidato alla presidenza della regione che mi attacca perché... Lo possiamo dire tranquillamente. Sì, un certo De Luca ha fatto così, ci sono dei battimenti su... Sì, che fa polemiche sterili dicendo che io mi sono occupato di contattare alcuni sindaci e soltanto nell'ultimo periodo chiedendo se avessero dei progetti esecutivi da finanziare. Io non l'ho fatto soltanto in questo ultimo periodo, ma l'ho fatto per cinque anni. L'ho fatto nei confronti di tutti i sindaci siciliani e di ogni colore politico. Come disordini, mi perdoni se l'interrompo, lo rivendico con orgoglio. Assolutamente, io ho fatto semplicemente il mio dovere, ho fatto in modo che i Comuni avessero un interlocutore in regione, potessero parlare con la presidenza della regione e piuttosto che consentire alla regione siciliana di restituire, così come accadeva fino al 2017, le somme comunitarie indietro all'Europa, noi dal 2018, dall'insediamento del governo musulmese, le abbiamo spese tutte, fino all'ultimo centesimo, anche chiamando i sindaci uno ad uno e chiedendo se avessero un progetto appunto da finanziare, progetto esecutivo, perché soltanto così noi questa terra la cambiamo, con un impegno serio da parte di ciascuno di noi. E tutto passa anche attraverso le infrastrutture, non può esserci il rilancio del turismo in Sicilia senza infrastrutture, non ci può essere una vicinanza all'imprenditoria senza infrastrutture adeguate, tutto passa da quello. Però mi perdoni, vorrei fare una precisazione, se non sbaglio il governo regionale sotto la guida dei musulmese, proprio per rispondere a quella mancanza di personale nei comuni, ha lanciato una proposta per aiutare i comuni siciliani a sviluppare pure i progetti. Assolutamente, noi avendo questa sensibilità probabilmente più spiccata rispetto ad altri, per farci capire. E avendo recepito questo grido di allarme da parte dei comuni, abbiamo istituito, il presidente Musumeci ha deciso di istituire in seno alla presidenza della regione l'ufficio speciale progettazione, messo a disposizione di tutti i comuni siciliani che non avessero la possibilità di redigere un progetto, o perché non avevano risorse finanziarie da poter spendere, da dare a dei professionisti, o perché non avevano un tecnico comunale specifico. E quindi la regione siciliana si è spesso occupata di fare il progetto a dei comuni e di trovare anche poi l'asse di finanziamento. Lei però, nonostante la così giovane età, ha una duplice conoscenza della regione, perché lei non soltanto ha lavorato a Palazzo d'Orleans, che era stato al governo, quindi lei si è occupato di amministrazione, però lei ha pure un'esperienza politica pura, essendo stato dipendente all'Assemblea regionale, responsabile in Commissione antimafia. Ci può raccontare quell'episodio? Perché se non sbaglio è lì che lei conosce Musumeci, ma lei era consulente della Commissione antimafia prima che arrivasse Musumeci. Sì, io ho avuto l'opportunità di collaborare con la Commissione regionale antimafia, sia con il Presidente Speziale del Partito Democratico, che poi con il Presidente Musumeci. Non era chiaramente un ruolo politico, ma mi ha dato la possibilità di conoscere bene anche i meandri dell'Assemblea regionale siciliana e quindi le logiche parlamentari. Appunto per questo parlavo della dupla conoscenza. Esattamente. E questo mi ha consentito, essendo già allora amministratore locale, perché allora ero consigliere comunale e assessore, di portare già allora in Parlamento alcune delle istanze del territorio. Lì ho avuto l'opportunità di conoscere molto bene il Presidente Musumeci, di conoscerlo personalmente, perché chiaramente ne conoscevo già la storia, è stato presente dal 2013 al 2017. Quindi sotto il governo Crocetta. Sì, sì, sì. Sotto il governo Crocetta fu eletta all'unanimità Presidente della Commissione antimafia e ha reso davvero concreta e attivo l'operato di quella commissione. L'oportunità del vero va anche detto che anche nella successiva legislatura il Presidente Fava è stato affatto efficiente. Sì, sì, ha fatto anche lui un ottimo lavoro. Lì, come vi dicevo, ho conosciuto bene il Presidente Musumeci, io militavo in altro partito e avendo davvero toccato con mano quanto fosse grande l'amore suo nei confronti della nostra terra e quanto fosse concreto e capace amministratore, un giorno gli dissi Presidente se lei dovesse essere ricandidato e in quel momento nessuno avrebbe scommesso sulla situazione legislatura, io rimarrò al suo fianco, sarò al suo fianco. E fu poi così perché allora il mio partito decise di prendere una posizione diversa e io rimasi accanto al Presidente Musumeci e l'ho seguito poi anche a Palazzo d'Orleanse una volta vinta le elezioni per tutti e cinque gli anni. Come sono stati questi cinque anni a Palazzo d'Orleanse, Musumeci o non Musumeci? È un posto orribile da vivere, complicatissimo. È una gabbia. È una gabbia. È una gabbia dorata. Una gabbia di matti lo possiamo dire. Per certi aspetti, è una gabbia dorata ma è una gabbia. È un palazzo che succhia tutta l'energia, non esiste più una vita privata. Ogni energia, non hai più una vita privata. Poi noi abbiamo avuto anche la sfortuna di vivere l'emergenza Covid che nessuno di noi poteva immaginare e prevedere. Però ecco è stata un'esperienza davvero bella, importante, prestigiosa, come ho già detto difficile per certi aspetti ma che ci ha consentito di dare tutte quelle risposte che i cittadini aspettavano da tempo. È un'esperienza che ti forma sotto ogni punto di vista, che ti fa crescere tanto, ti abitua a frequentare gli squali della politica che pensano di poterti gestire così come vogliono ma non è così. Poi ecco ti fa crescere. Io penso di essere cresciuto. Parliamo un poco di politica pura. In queste elezioni c'è un tratto dominante, ci sono stati tantissimi cambi di casacca. Candidati che da sinistra vengono sbalzati a destra, chi scappa dal centro-sinistra e finisce all'interno del contenitore è pseudo-autonomista di De Luca. Pseudo-autonomista lo dico senza eccezione negativa, pseudo perché non è del tutto autonomista. Anche lei ha una carriera di cambi di casacca, però lei quando ha cambiato la casacca l'ha fatto per una motivazione politica è rimasto sempre all'interno di un perimetro ben definito. No, io in realtà non ho mai cambiato partito. È il partito che ha cambiato durante... È il partito che ha cambiato nome nel corso della sua storia, cioè nel senso che io ho iniziato a militare in un partito che poi, e ne ho seguito chiaramente l'evoluzione, che poi negli anni ha cambiato nome per due volte. L'unico cambio di passo ma rimanendo sempre all'interno del centro-destra è stato quello che ho compiuto appunto nel 2017 decidendo di rimanere accanto al presidente Musumeci e di aderire al movimento Diventerà Bellissima che oggi insomma ci ha portati all'interno di Fratelli d'Italia. Quindi per quanto mi riguarda ecco il mio è stato un percorso sempre coerente all'interno del centro-destra. Ho notato... Ho notato in lista, lei ha come degli avversari che vengono da un po' tutte le parti. Non facciamo il nome ma c'è gente che viene dalla DC. Esattamente, hanno delle storie diverse dalla mia. Ma la coerenza in politica ha un valore o un disvalore? Io guardi penso che la coerenza paghi sempre nella vita, magari non subito ma alla lunga sì, quindi non entro nel merito delle scelte degli altri, però è chiaro che molti di loro hanno delle storie politiche totalmente diverse dalla mia. Molti provengono dalla sinistra, oggi sono candidati nella Lega. Bellissimo sostenere una storia politica diversa dalla mia, cioè non si vuole neanche aggredire chi è il compagno di squadra, ma in realtà c'è un po' di sofferenza, no? Perché c'è... No, sofferenza, sofferenza no. Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Io sono geloso ecco dei miei ideali e dei miei valori e preferisco rimanere sempre incardinato all'interno di un percorso. Non sento l'esigenza di cambiarlo, ecco. Marco Entravaia, candidato all'Assemblea regionale siciliana nel Collegio di Palermo per la lista dei fratelli d'Italia. Il tempo a nostra disposizione è quasi finito, però le lascio il tempo, 30 secondi, per sintetizzare al massimo il suo programma elettorale. Il perché le si candida e cosa vuole fare? Io non ho un programma elettorale. Il programma elettorale è quello della coalizione, quindi non è quello del singolo candidato all'Assemblea regionale siciliana. Quello che io chiedo agli elettori è di darmi fiducia. Fiducia ad un amministratore locale che ha dimostrato in tanti anni di impegno sul territorio di saper fare, di saper fare bene, dando risposte concrete. Oggi in politica c'è di tutto. Quello che il cittadino deve sempre valutare è la serietà del sindaco, del singolo, la serietà del candidato che si sottopone all'attenzione dell'elettore. L'elettore dovrebbe chiedere al candidato non quello che farà, perché in campagna elettorale capita spesso di fare promesse che non si possono mantenere, ma quello che ha fatto sino a quel momento. L'elettore deve valutare la serietà del candidato, la concretezza del candidato, la capacità che ha dimostrato nell'amministrare una realtà locale. Perché batto sempre sulla serietà? Perché non bisogna accontentarsi del politico che sorride, del politico che è simpatico, del politico che ti dà la pasta la pasta. Lei però è un po' simpatico. Questo senza dubbio aiuta e spero di esserlo davvero, di far passare questo messaggio. Però più che simpatico preferisco essere concreto ed efficiente ed è quello di cui davvero la nostra terra ha bisogno. Del resto quando un cittadino ha un problema di salute non si affida al medico che è simpatico, che ride o che magari fa anche lo sconto in fattura. Il cittadino si affida al medico bravo, al medico competente, magari eccessivamente serio perché deve risolvere il problema di salute. La Sicilia è una terra malata e ha bisogno di essere affidata e guidata da persone serie, non da persone che ridono, da persone che fanno teatro, da persone che fanno spettacolo, da persone che non fanno altro che attaccare e dire parolacce. Io ho avuto la fortuna di vivere questi cinque anni accanto a un Presidente della Regione che ha dimostrato tanta serietà, tanta concretenza. Sicuramente è un garantuomo d'altri tempi. Un uomo d'altri tempi, persona per bene che soprattutto ha dimostrato di saper fare, di essere un eccellente amministratore. E sulla scia della strada tracciata dal Presidente Musumeci, io vorrei continuare a fare quello che ho già fatto per il mio territorio anche per il resto della provincia di Palermo. Ecco perché chiedo fiducia ai nostri elettori. Il tempo andoso a disposizione è finito. Il Dottore Intravaia ci ha detto che sorridere non è buono per un politico, però prego la regia di inquadrare il sorriso del Dottore Intravaia che comunque in campagna elettorale ancora ce lo possiamo permettere. Abbiamo 15 giorni circa per scoprire cosa succederà dentro questo di Pasqua chiamato elezioni regionali. Grazie Dottore Intravaia, grazie a tutti coloro che ci seguono con attenzione su Blog Sicilia e ci vediamo presto con una prossima puntata del nostro Talk Sicilia. Grazie a tutti.